Musica Alle sue spalle vediamo una delle vostre macchine e voi che cosa fate, come presenterebbe la sua azienda? Allora, FPT Industria è da 1969, produce macchine utensili questo è solo uno degli esempi delle 17 linee di prodotto che FPT Industria produce facciamo fresatrici, fresatrici e lesatrici, centri di lavoro a 5 assi in continuo o 3 più 2 all'interno di FPT Industria, che è un'azienda di Santa Maria di Sala in provincia di Venezia seguiamo tutta la produzione, quindi dalle teste, le macchine, i cambi pallet tutto quel che riguarda la macchina vediamo di farlo internamente andiamo nel vostro simbolo, tra l'altro, la bandiera italiana quindi c'è un orgoglio del Made in Italy che parte fin dal marchio orgogliosamente italiani, quindi The Italian Style per noi è un brand che oltre a dimostrare che siamo italiani abbiamo coniato e vogliamo proporre in tutto il mondo in modo da far capire che tutto quanto viene fatto in Italia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti